Amici, bentrovati! Dove vi porto oggi lo sapete, io vi porto nei posti più belli, più interessanti. È un sabato sera qualunque, io non so cosa stiate facendo voi, ma a me piace fare cose interessanti, alternative, diverse. Allora, siamo a Torralba, il Nuraghe Sant'Antin è proprio qua a fianco. La gente sta cominciando ad arrivare perché? Perché qua ci sono tutta una serie di iniziative che allieteranno questo sabato. Innanzitutto questa mostra, è una mostra pre-nuragica allestita proprio per questa occasione e starà qua in allestimento per tre giorni, la durata del festival. E allora vado perché ci sarà una degustazione di prodotti rigorosamente locali, formaggi, salsicci, ricotte, mieli ma soprattutto vini. Oggi sarà infatti una giornata dedicata alle degustazioni di vini e a questo apericena in compagnia di Francesco Biu. Quindi saremo alliettati da questo blues di Francesco che qua, per questa location, è davvero perfetto. Insomma, un bel sabato sera. Un bel sabato sera. Grazie!